Anche quest'anno il Comune di Napoli apre alla cittadinanza per definire il programma di eventi del Natale 2012. L'invito dell'assessorato alla cultura e al turismo è valido fino al 30 ottobre e si rivolge ad imprese, associazioni, enti, consorsi, fondazioni che in forma singola o associata possono presentare proposte da realizzare a Napoli tra il 7 dicembre e il 6 gennaio 2013. Può trattarsi di spettacoli, concerti, mostre e percorsi turistici. L'importante è che i progetti siano in grado di coinvolgere il pubblico, soprattutto giovane, animando anche luoghi della città meno valorizzati. Alle varie iniziative che dovranno essere autosostenute, l'amministrazione comunale garantirà un sostegno sotto forma di promozione degli eventi attraverso i canali di comunicazione e diffusione dell'ente. Il programma di attività per il Natale va articolato su almeno 10 giorni e spedito via mail in una scheda sintetica di massimo due pagine all'indirizzo proposteculturali.comune.napoli.it Ulteriori informazioni sono consultabili nell'apposita sezione sul sito del Comune.